Oh ragazzi, Line è fantastico, cioè praticamente è un'app di messaggistica ma è un social network allo stesso tempo, fantastico, la home, la bacheca personale come Facebook, fantastico, fantastico, lo dà, è bello proprio. Oh, no, sto facendo un video, ti preoccupare. Non puoi fare il normale. Vabbè, è assoluto. Il papà è preoccupato. Dicevo, ormai vedono fare live, continuamente si prendono paura. Comunque, Line è fantastico, fantastico, bello proprio. Oddio, comunque qua, cazzo è toccato. No, l'ha messa fuori, ok. E' un'altra line è fantastico. Non l'ho finito ormai di dire. E adesso, e adesso, e adesso, e adesso, e adesso, e adesso, ce ne andiamo in palestra. Oh, guarda qua. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Vedi che ho fatto foto, mentre faccio video. Oh, che figato. Ehi, faccio vedere la piettina, la piettina carnicola. Non so se si vede. Eccola. Si vede? Non so Non si vede? Aspetta, aspetta La quadratura Eccola qua La mia è bellissima Pinguicola Simpaticissima piantina Sembra una pianta grassa In realtà è una pianta insenticola Beh, andiamo in bestro va Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì